Si è appena votato per la terza commissione che riguarda lavori pubblici e urbanistica. I consiglieri comunali facendo parte di questa commissione sono Zizzo, Randazzo, Tumbiolo, Di Gregorio, Cancemi, Buonmarito e Gaiazzo accanto a me. Allora, una bella commissione, quindi urbanistica, da cosa partirsi, quali sono i primi atti da portare appunto in commissione e quindi anche in consiglio comunale? Ma intanto vedremo quello che c'è da proporre per la città e quindi vedremo il lavoro da svolgere con tutti gli altri componenti. Quanto riguarda soprattutto anche i lavori pubblici è un atto comunque anche molto importante da cui comunque si può anche cambiare il volto della città. Quindi un progetto magari anche da portare sotto questo punto di vista quale può essere? Ma ci vorrebbe un progetto di sviluppo come anche il portocanale che io proprio proporrò nel prossimo consiglio, quindi vedremo un pochettino il da farsi. Accanto a me il consigliere Zizzo che fa parte appunto della terza commissione lavori pubblici e urbanistica, quali gli argomenti da trattare in premessa? Innanzitutto devo dire che la commissione lavori pubblici e urbanistica è una commissione importante, atti importanti che sicuramente verranno in consiglio comunale, ci sarà il piano regolatore che è un atto importantissimo per la nostra città, quindi sul piano regolatore il consiglio comunale si dovrà pronunciare e la commissione lavori pubblici dovrà dare dei pareri, è importantissimo. Poi altri progetti, secondo me il ruolo della commissione deve essere un ruolo propositivo, individuare dei progetti, dare una priorità. La commissione può dare una priorità a determinati interventi nel settore lavori pubblici, può benissimo anche nell'urbanistica dove è competente la commissione edilizia, la commissione consigliare anche sui regolamenti, il regolamento edilizio va ampliato, modificato, aggiornato e altri regolamenti che secondo me c'entra pure la commissione edilizia. La commissione può avere un ruolo importante, a mio parere la commissione più importante delle sei commissioni che ci sono, quindi penso che questa commissione, ho visto i nominativi, è una commissione di componenti che hanno una certa esperienza nell'ambito lavori pubblici, quindi è una buona commissione, ci sono dei tecnici fra l'altro che fanno parte di questa commissione consigliare, mi auguro che svolga un lavoro diverso negli altri anni, che sia propositivo e visto che c'è una bella maggioranza, per cui un parere della commissione sarà importante perché è un parere a sostegno dell'amministrazione, stabilendo pure delle priorità, questo secondo me è fondamentale.